Beppe Salvia è stato poeta di fine Novecento, poeta fuori dai cliché, poeta sempre fuori moda. È morto precocemente a Roma quando aveva appena 30 anni, alla vigilia di Pasqua del 1985, ma pur nella sua breve esistenza è stato capace di imprimere un segno importante nel mondo della poesia italiana. Il Consiglio regionale della Basilicata, su proposta dell'Associazione Spiragli, gli ha dedicato una giornata di studio della poesia di Beppe Salvia, che è nato e si è formato nella città di Potenza, ne hanno parlato tra gli altri il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vito Santarsiero, il Presidente dell'Associazione Spiragli, Bartolomeo Smaldone e lo scrittore e critico letterario, Arnaldo Colasanti, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Beppe Salvia, per molti critici, rappresenta una delle maggiori figure della poesia italiana dello scorso secolo. Poeta di grande sensibilità, poeta che mi piace ricordare, ha vissuto qui a Potenza, nel liceo scientifico, le ansie, le attese, le speranze di una intera generazione, la generazione alla quale io stesso appartengo. Abbiamo vissuto insieme quella stagione, ansie, attese, speranze, per certi versi anche delusioni, che poi ha vissuto successivamente a Roma, dove la sua poesia si è espressa ai massimi livelli, con il suo impegno sociale, intattissime attività culturali che si sono sviluppate nella nostra capitale. Credo tra i più grandi del secolo scorso, potentino di nascita, ma poeta di tutti direi, perché i grandi poeti come Beppe Salvia appartengono all'umanità. Sì, è il secondo appuntamento, segue quello del 7 aprile dell'anno scorso, del 2017. In mezzo c'è stato anche il premio letterario dedicato a Beppe Salvia, la cui cerimonia di premiazione si è svolta il 6 aprile di quest'anno a Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale. A noi interessa lavorare in questa direzione e Potenza, io credo, ci stia dando una grande mano. Il presidente Vito Santarsiero ha voluto fortemente che ci fosse questo secondo appuntamento. Noi lo comprendemmo bene, lui comprese noi, la poesia e i suoi tempi, i suoi ritmi. È chiaro che la cosa terribile è perché un ragazzo decida di uccidersi, perché non abbia creduto che avremmo potuto costruire insieme una realtà diversa, perché noi l'abbiamo costruita, noi scrittori abbiamo fatto più politica di quanto si creda nei tempi in cui veniva ucciso Moro o poi la morte di Bene in guerra, erano quegli anni lì. Io non credo che sia un poeta incompreso, è un poeta imperdonabile, perché ha cercato di dire cose vere, forti e ha cercato di dire che la patria è solo di chi l'ama e in questo senso fu un poeta che ammò la patria.